Ok, allora la registrazione è partita, buongiorno a tutti, siamo se non ho sbagliato a contare perché in questi periodi è sempre complicato tenere il traccio delle settimane, dovremo essere al sesto appuntamento, quindi alla sesta settimana del corso, siamo quasi al giro di boa delle 13 settimane su cui si articolerà questo semestre. Siamo entrati nel vivo nell'argomento della ricorsione che ci terrà ancora compagnia per il prossimo laboratorio in modo da cercare di riuscire ad approfondirlo un pochino meglio e poi inizieremo, quindi avremo ancora una settimana in cui continuiamo a lavorare sulla ricorsione in laboratorio, nelle esercizioni e nelle lezioni più teoriche ci infilo due argomenti che sono un pochino più collaterali, e quindi nulla di praticamente difficile ma di essenzialmente accesso alle basi di dati e la gestione delle date e degli orari in Java che sono due argomenti diciamo così un pochino minori, permetteci diciamo così di esercitarci meglio sulla parte di ricorsione, quindi dedicare ancora l'attenzione in questa settimana alla ricorsione, poi della settimana successiva inizieremo poi l'argomento nuovo che è quello dei grafi, quindi gli ultimi due macro argomenti dopo la ricorsione saranno quello dei grafi e quello delle simulazioni, dopodiché siamo a ridosso dell'esame. Ho citato una parola pericolosa, esame, io al momento non vi posso dare molta informazione ancora sull'esame, nel senso che in questa settimana stiamo studiando un pochino quale potrebbero essere modalità di esecuzione, avendo capito che ormai è totalmente escluso la possibilità di fare l'esame al Politecnico in laboratorio, quindi ci stiamo studiando qualche modalità, anche osservando quello che stanno facendo i colleghi che sono stati così sfortunati di avere ancora degli esami dell'appello di febbraio di recuperare, lo stanno recuperando in questa settimana, quindi stiamo un pochino tutti cercando di capire quali sono gli strumenti che ci permetteranno di svolgere l'esame, cercando di non snaturare troppo l'approccio del corso, che è quello proprio di mettervi in grado di programmare in condizioni realistiche, quindi sicuramente non farò un esame a quiz, però anche il problema di sviluppare dei progetti da parte vostra, diciamo così, cozza contro il problema della sorveglianza, della possibilità di poter verificare che ciò che fate sia il vostro, essenzialmente farino nel vostro sacco. Su questo cerco di tenervi aggiornato man mano che riusciamo a pensare delle ipotesi, so che voi in realtà state anche sperimentando dall'altro lato, voi, i vostri compagni, il problema degli esami in altri corsi, per cui se per caso avete delle idee oppure delle esperienze positive che sono verificate in altri contesti, se me le fate sapere così magari riusciamo a costruire qualche cosa che sia adatto. Quindi al momento in fase di studio l'unica cosa che mi sento di promettere è che l'esame sarà un esame di programmazione, non un esame di teoria, altrimenti ci staremo preparando in un modo completamente diverso rispetto a quello che, diciamo così, sarà il punto d'arrivo. Sui dettagli mi dispiace, non posso ancora darveli perché non li ho ancora elaborati bene. L'altra domanda che a volte salta fuori è quella sulle date, le date non le sappiamo neanche noi minimamente, ciò che sappiamo che la sessione, gli esami sarà confermata, quindi inizierà e finirà nelle stesse date che sono pubblicate sul portale della didattica, ma le date specifiche dei singoli appelli al momento non sono ancora del tutto definite. Quindi questo siamo ancora un pochino in attesa, nel senso che ci sono due previsioni ma non ancora affidabili. Al netto di questo direi, è passata la settimana delle vacanze, quindi non ci siamo visti per una settimana, ma a vale di ciò, come sempre, come tutte le settimane in cui ci incontriamo, io sono disponibile qua per le vostre domande, per ogni dubbio, sia sulla parte di ricorsione, che sulla parte di database, che anche sulla parte organizzativa del corso, se avete domande, se avete osservazioni, se avete suggerimenti. Ah no, l'altra cosa, ve l'ho scritta sul gruppo Telegram, abbiamo, siamo riusciti a definire modalità di partecipazione dello studente coadiutore che era stato segnato al laboratorio, cioè Philip Bick, che non potendo ovviamente farsi senza il laboratorio, ha accettato di creare delle soluzioni per i laboratori. Quindi avrete già visto che, ho visto che diverse persone hanno già visualizzata, ed è comparsa una soluzione proposta dal borsista, commentata soprattutto dal borsista, del laboratorio numero 5, e con l'intenzione a completare questa cosa su tutti i laboratori, quindi via via, la settimana prossima comparirà quella sul 6, e poi gradualmente andremo a recuperare quelli dall'1 al 4, che insomma erano già facili, ma almeno per avere il pacchetto completo. Quindi quest'anno avremo il pacchetto completo non solamente di soluzioni di laboratori, ma anche di video, diciamo così, commentati, che cercano di aiutarsi non tanto a capire il codice della soluzione, ma a capire il ragionamento con cui sono stati impostati. Spero che gradiate questo nuovo servizio che siamo riusciti a offrirvi, grazie al borsista che si è dichiarato anche entusiasta di farlo. Se avete anche lì dei commenti sulla modalità, sui contenuti, sulla chiarezza, eccetera, fateci sapere tranquillamente e cerchiamo di aggiustare il tiro, anche perché in questo semestre stiamo andando tutti molto in modo empirico. Ok, non vi rubo altro tempo e quindi sono aperto per le domande che mi vogliate fare. Grazie. Vi devo stimolare io? Quanto l'avete digerito questo argomento della ricorsione? Avete provato a fare degli esercizi? Avete provato ad applicarlo a qualche problema? Ancora buio oppure... Allora, vediamo una prima domanda che compare in chat. Allora, facciamo così. Permettetemi di condividere lo schermo, così è più facile rispondere, come sempre. prendiamo un blocco note, eccoci qua. Vado a recuperare quella maledetta finestra di chat, che tutte le volte che passo il schermo intero va a finire chissà dove. Allora, partecipanti la metto di qua. Chat la metto di qua. Ok, allora. Questa è la domanda che ci fa Matteo, che chiede, merito all'esercizio del quadrato magico, se si può essere sensato a ridurre il numero di casi generati della ricorsione inserendo un controllo dopo solo n-1 o n-2 numeri inseriti nella riga. Certo, si può fare. Quindi l'idea di Matteo è quella di dire, guarda, io ho un quadrato di lato 3x3, i primi due numeri sono 1 e 2, e quindi nel terzo elemento della prima riga non sappiamo ancora qual è, nel senso che la ricorsione non ci è arrivata ancora. Però io so che i numeri che potrò mettere qua sono i numeri tra l'1 e il 9, quindi 1 più 2 fa 3, 3 più 9 fa al massimo 12, e quindi di sicuro questa riga non arriverà mai a 15, che è il valore che ci aspetteremo. Quindi assolutamente sì, ha senso perché ci permetterebbe in questo caso in questo punto interrogativo di non considerare, cioè normalmente l'algoritmo considera 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e in questo caso li butta via tutti, nel senso che nessuno di questi, potenzialmente sommato a 1 più 2, può portare a una soluzione pari a 15. Fine. in altri casi in cui magari avessimo come primo elemento, non so, 6, e basta, pensiamo su un elemento solo, quindi per arrivare a 15 mi servono 6, 9, mi mancano ancora 9 elementi, il valore è 9, e quindi dunque l'1 e il 2 probabilmente non mi serviranno, beh no, non è vero, non riesco a escludere per il momento ancora nulla. Per esempio se avessi già 6, 3, 9, allora vuol dire che quello successivo deve essere per forza maggiore o minore di un certo valore. Cioè in pratica cercando di generalizzare, io posso dire che la somma degli elementi di una riga parziale più il valore massimo degli elementi ancora da sistemare deve essere maggiore del numero magico. E così come la somma degli elementi di una riga più il minimo deve essere minore o uguale nel numero magico. Queste sono condizioni che devono essere vere in qualunque momento. Cioè se io so quali elementi ho già messo, quali devo ancora mettere, la somma dovrà ovviamente arrivare al numero magico. Allora per potermi permettere di arrivare al numero magico dovrò essere sicuro che gli elementi che ho ancora a sistemare mi permettono di raggiungerlo, quindi se per caso prendessi il numero massimo ovviamente tenendo conto di quanti me ne mancano, quindi se ne mancano due, motivo per due, questo massimo e così via, deve superare il numero magico in modo che io poi possa scegliere anche dei valori più piccoli ma almeno solo di poterci arrivare. Ecco, questi sono due test che sono ragionamenti semplici da fare e possono fermarmi a ricorsione ai livelli precedenti. Questo lo posso fare in qualunque momento, cioè ogni volta a un livello di ricorsione posso ragionare su questa riga e magari anche sulla colonna che contiene questo numero. Mi può tagliare dei casi. Ecco, l'unica cosa, diciamo, qualunque principio di quanto possa migliorare le prestazioni non lo so. Secondo me sì, ma non saprei quantificarlo, nel senso che poi bisognerebbe provare a implementarlo. L'unica cosa che vi chiederei di pensare è che quando fate queste potature di questo genere, quindi mi fermo prima perché sono sicuro che se non è verificata una certa condizione non riuscirò a trovare la soluzione. Ecco, questa condizione non deve essere troppo intelligente. Per dire, se io 6 e 3 un numero 6 più 3 fa 9 è dispari per arrivare al risultato che è 15 che deve essere dispari quindi il numero da mettere qua dovrebbe essere sicuramente un numero pari. Ho detto una cosa semplice. Allora, potrebbe essere un altro ragionamento in più. Allora, io considero solamente i numeri la cui somma è pari eccetera eccetera. Allora, se andiamo a complicare troppo le condizioni rischiamo di sostituirci noi col nostro tentativo di ragionamento euristico cioè a buon senso a quello al lavoro che invece la ricorsione fa tranquillamente. quindi dobbiamo andare a identificare soluzioni che siano delle condizioni che siano veloci da calcolare perché noi stiamo facendo moltissime chiamate ricorsive ovviamente se risparmiamo bene però se dobbiamo già vagliare diverse alternative prima di decidere se fare la ricorsione in realtà stiamo facendo il concetto di vagliare diverse alternative è già ciò che la ricorsione sta facendo. Quindi c'è sempre un trade off tra dei test semplici che ci servono per potare che sono sempre benvenuti e invece sostituirsi proprio con diciamo così approcci algoritmici diversi. Comunque questo test qua sicuramente può aver senso così come può aver senso ragionare sulle colonne così come può aver senso ad esempio riempire il quadrato in un modo diverso ad esempio io potrei riempire pensiamo sempre al 3x3 quindi può essere fatto così e poi così io potrei ovviamente pensare di riempire come primo elemento questo la prima riga come abbiamo fatto poi potrebbe essere utile fare la prima colonna magari perché potrebbe essere utile fare la prima colonna perché con due elementi aggiuntivi chiamo questi due y io riesco a fare il controllo sulla colonna mentre invece per fare il controllo sulla seconda riga avrei bisogno di tre elementi aggiuntivi e quindi riesco ad anticipare di un livello un secondo controllo aggiuntivo che invece potrebbe essere utile e a questo punto ci metto questo elemento di mezzo e così con un livello di ricorsione aggiuntiva riesco a fare la diagonale inversa e quindi fare un altro livello di potatura è chiaro che così complica perché era tanto facile riempire dall'inizio però se io riesco a riempire il quadrato in un ordine diverso riesco a permettere di fare dei controlli in più a certi livelli di ricorsione chiaro che generalizzare questo e poi una dimensione n qualsiasi non è facilissimo però ci sono tanti aspetti su cui si può giocare quindi puoi capire essenzialmente fin dove vale la pena e che tipo di guadagno mi possono dare allora poi c'è l'altra domanda che mi arriva da 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 Marco che parla delle date sull'estazione 6 le date nel database sono indicate come date per restare il database in Java possiamo conoscere la gestione delle date o possiamo farla con le conoscenze che abbiamo allora al momento allora la prossima lezione che faremo sarà proprio quella sulle date quindi giovedì o venerdì ci sarà il video su questo ma per l'esigenza dell'esercizio è più semplice perché a noi diciamo così è sufficiente poter estrarre il singolo il singolo giorno in cui si è verificata si è verificata l'evento quindi quello che potremmo fare è direttamente estrarre estrarre il il giorno che ci serve prendiamo il testo così lo capiamo meglio ad esempio programmazione materiale laboratorio 6 6 qui c'è questa data ma cosa deve fare il mio esercizio deve prendere i primi 15 giorni del mese e quindi essenzialmente per ciascun mese estrarre 15 campioni scelti tra un mese e scelti tra un certo insieme di date e poi questi qui avranno dovranno essere usati diciamo così nella ricorsione quindi a me serve in questo caso semplicemente fare non necessariamente elaborare questo campo date lo potrei sicuramente fare ma mi conviene leggere database solamente i dati che mi servono quindi io potrei fare la mia interrogazione innanzitutto verificando che il mese sia quello che voglio e il giorno sia minore di 15 per esempio e poi a me interessa solamente sapere il giorno nel mio risultato quindi avere delle caselle etichettate 1, 2, 3, 4, 5 e così via e quindi questo lo posso fare direttamente usando le funzioni come suggerisce anche Federico nella chat che dice io personalmente ho usato il comando SQL month per esempio cioè all'interno del linguaggio SQL ci sono già gli operatori per poter gestire in parte le date quindi chiedere che il mese sia quello corretto significa di fatto scrivere come dice Federico month di data si chiama data sì data uguale punto drogativo dove ovviamente punto drogativo sarà passato e il giorno anche la funzione date se non sbaglio di data sarà minore o uguale a 15 e quindi restituisce date data se volete avere una visione di insieme basta che voi andate a cercare nella documentazione MariaDB o MySQL date functions eccole qua e vi dà le funzioni per manipolare le date tra cui appunto day che rappresenta il giorno del mese month che più avanti rappresenta il mese minuto eccetera eccetera quindi questo in questo caso si può praticamente limitare l'elaborazione della data all'interno delle sequelle in modo che poi in Java essenzialmente abbiamo solamente questo valore qua lo chiamiamo giorno e lavoriamo semplicemente col numero del giorno è già un numero intero questo questa è la soluzione più semplice per questo esercizio poi come vi dicevo nella prossima lezione impareremo in Java a fare questo tipo di operazione quindi prendersi l'oggetto data in una forma più facilmente utilizzabile che non la classe date Java classica ok prossima domanda di Gaia che mi chiede quando nella ricorsione bisogna inserire un ciclo for sempre nell'esercizio dei voti Nobel non lo utilizziamo allora quel ciclo for che inseriamo nella procedura ricorsiva ovviamente serve per generare tutte le possibili tutte le possibili soluzioni del livello successivo allora andiamo a vedere voti Nobel che cosa fa quindi andiamo a prendere il cicli tab TDP 2020 voti Nobel soluzione e andiamo nel main eccolo qua allora cerco di ingrandire un po' il testo e abbiamo questa procedura ricorsiva privata che cerca allora in questo caso noi abbiamo una ricorsione che ad ogni livello decide genera due soluzioni possibili cioè la soluzione che si ottiene aggiungendo l'esame e la soluzione che si ottiene non aggiungendolo quindi in questo caso è come se fosse questo ciclo for che avesse due casi lo metto sì lo metto no sono due blocchi diversi quindi all'interno di una chiamata ricorsiva io ne genero due diverse una in cui aggiungo l'elemento e faccio la chiamata ricorsiva sottostante l'altra in cui non aggiungo l'elemento e quindi però faccio comunque la chiamata ricorsiva per vedere cosa succede cercando di aggiungere bada o non aggiungere l'elemento successivo quindi in questo caso poiché la ricorsione ad ogni livello genera solamente due sottosoluzioni possibili allora queste soluzioni sono state codificate direttamente nel codice caso 1 caso 2 e quindi non è stato necessario diciamo il ciclo for altrimenti sarebbe stato un ciclo for che va da 0 uno dice lo prendo oppure non lo prendo e se lo no quindi in questo caso stiamo generando scegliendo man mano che scendiamo se prendere o non prendere quell'esame per il computo del mio fronteggio massimo nell'altra soluzione direi che l'approccio era diverso vedete che nell'altra soluzione presentata l'approccio è totalmente duale e quindi mentre la soluzione che era detta diciamo così cerca 1 io scendendo una ricorsione ogni livello di ricorsione corrispondeva a un esame e quell'esame decido se prenderlo o no nell'altro caso invece ogni livello di ricorsione consiste in un esame che ho scelto quindi il primo esame da scegliere il secondo esame da scegliere il terzo esame da scegliere quindi ad ogni livello provo a scegliere tra tutti gli esami possibili che ho a disposizione quindi in questo caso avrò meno livelli perché nel primo caso nella cerca 1 il numero di livelli è esattamente uguale al numero di esami totali mentre invece nella cerca 2 il numero di livelli è il numero di esami che ci ho messo nel mio insieme quindi ho meno livelli di ricorsione ma in ciascun livello chiaramente ho il numero un numero di sottosoluzioni generate che è pari al numero di esami totali meno il livello di cui sono perché ci sono alcuni che sono già stati presi quindi questo è molto più simile a quelli che abbiamo già fatto in precedenza in realtà questa seconda soluzione non so se avete fatto caso fa del lavoro inutile nel senso che se io ho provato a mettere esame 1 e poi esame 2 a livello e vado diciamo vado avanti nella ricorsione poi quando tornerò al primo livello di ricorsione proverò a mettere esame 2 e dopo esame 2 proverò a mettere esame 1 e quindi in realtà lui mi calcola tutte le possibili combinazioni di esami tenendo conto anche di tutti i possibili ordini diversi quando in realtà per questo problema specifico non serve l'ordine la soluzione con esame 1 esame 2 la soluzione con esame 2 e esame 1 hanno esattamente lo stesso valore quindi in qualche modo questa soluzione potrebbe essere già facilmente migliorata cercando di non inserire degli esami non provarli tutti ma provare solamente quelli che vengono dopo nella sequenza però non voglio portare fuori rispetto al ragionamento di cui mi aveva chiesto Gaia quindi in questo caso abbiamo detto che nel caso 1 cerca 1 quindi ho 2 sotto chiamate ricorsive una metti oppure non metti e allora in questo caso non è stato messo il ciclo for ok allora prossima domanda poi eventualmente se vado in ordine perché altrimenti rischio di perdermi quindi se poi volete ritornare su alcuni punti che ho detto lo facciamo volentieri allora dicevamo in esercizio voti Nobel mi scrive Matteo sono accorto che provando a inserire inizialmente 100 crediti il programma funziona allora proviamo a copiarla qui così riusciamo a commentarla insieme in seguito ho provato a inserire 20 crediti scusa se ti corrego l'errore di grammatica a inserire 20 crediti e ha continuato a funzionare provando però a inserire un numero maggiore di 20 il programma non funziona riporta nella ritesta come soluzione ottima quella ottenuta inserendo 20 crediti allora questo comportamento non so ovviamente la risposta di quale sia il problema bisognerebbe andare a cercarlo però quello che succede è che tu esegui all'interno della stessa interfaccia utente lanci il programma e gli chiedi risolvere problemi diversi e a un certo punto lui si comporta in modo diverso a seconda che tu gli richieda per la prima volta o per la seconda o terza o quarta volta allora questo è normalmente un sintomo del fatto che ci sono alcuni alcuni dati che non sono stati correttamente ripuliti quindi se tu dici all'attivo appena l'ho acceso chiedo 100 e mi da il risultato benissimo oppure l'attivo gli chiedo 20 poi gli chiedo 100 e il risultato di 100 non me lo dà giusto allora vuol dire che l'esecuzione diciamo così del 20 ha sporcato qualche dato che non è stato ripulito quindi bisogna fare attenzione non tanto alla procedura ricorsiva o perdon alla procedura ricorsiva che magari lavora bene poverina ma come viene richiamata quindi questo qua è un model il costruttore lui regge gli esami calcola sotto insieme il numero di crediti parziale best soluzione best soluzione uguale null e c'è questo problema che vedete che quando io attivo uno calcolo nuovo sotto insieme ritorno alla best soluzione best soluzione è stata messa null quando ho nell'inizializzazione delle variabili quindi quando ho creato il model quindi quando lo chiamo chiamo questa funzione per la prima volta best soluzione è null e quindi la cerca uno poverina cercherà di mettere la best soluzione poi se richiamo o calcolo sotto insieme una seconda volta con un numero di crediti diverso lui ovviamente chiamerà la procedura ricorsiva ma best soluzione non è stato ripulito non è stato rimesso a null e quindi è così come best media non è stata rimessa a zero e quindi questa procedura ricorsiva erronamente questo è un errore è un baco sta confrontando la media col numero di voti scusate col punteggio nuovo di crediti maggiore della media che aveva già ottenuto nell'iterazione precedente nel calcolo precedente ovviamente è sbagliato perché sta confrontando una cosa che non c'entra nulla quindi questo è un errore all'interno della funzione diciamo così di livello zero di avvio della ricorsione devo essere sicuro di ripulire tutte le strutture dati che ho usato nella ricorsione precedente quindi in questo caso la soluzione parziale vedete che la sto ripulendo perché la ricrevo da zero però gli esami è giusto che non li ripulisca perché quelli rimangono tali e quali non vengono modificati ma queste due variabili base media e risoluzione sarebbe più corretto non inizializzarle qua ma inizializzarle qua dentro prima della cerca allora a questo punto non dovrebbe più verificarsi quel problema che Matteo ci ha segnalato quindi questo è un errore nel programma però ci valga anche un po' da lezione se noi vediamo che il programma funziona la prima volta e se poi cerco di ripulere cambiando un po' i parametri ripetelo più volte non funziona più ma se lo spengo lo riaccendo quindi lo chiudo lo riavvio rifunziona vuol dire che tra un'esecuzione e l'altra sto dimenticando di resettare o di reimpostare il valore giusto delle alcune variabili quindi questo andremo a dirlo a Tatiana e al borsista che staranno facendo la soluzione ma scusate questo è l'esecuzione che aveva fatto Alberto quindi diciamo ad Alberto che questo dettaglio gli era sfuggito ok grazie per debaggarci le soluzioni a Maritati che non so per cosa stia mi dice mi provo a inserire un best media uguale a zero nel reset perché tiene esattamente la risposta che ci ha dato insomma c'era già scritta qua giustamente non è solo best media ma è anche best soluzione a questo punto ma soprattutto best media chiaramente dico anche best soluzione perché nel caso in cui la soluzione non esista non venga trovata allora è giusto che faccia un return null e non faccia un return della soluzione precedente quindi ok per quanto riguarda il numero di giorni l'altra domanda che mi fa sempre ha qualcosa è in merito alla domanda di Gaia per quanto riguarda il numero di giorni è possibile anche contare con un count fino a 15 dato che i giorni sono in ordine non con il count cioè noi vogliamo fare una select quella là di prima insomma e tu mi dici guarda io non voglio vincolare il giorno dall'1 al 15 ma voglio dire dammi tutti e dammi solamente i primi 15 questo sicuramente si può fare allora se io facessi una query di questo genere così mi darebbe tutti i giorni di quel mese ovviamente non è solamente select date ma le altre informazioni che mi servono qui mi da tutto il mese io voglio solamente i primi 15 allora posso usare la restituzione limit di SQL che riduce e taglia il numero di risultati che viene restituito quindi se a me non servono tutti dico dammene solamente 10 dammene solamente 15 bisogna fare attenzione la situazione limit a 2 vediamo un po' se riusciamo a trovarla al volo limit nella sua documentazione peccato che non ci sia il motore di ricerca interno ma eccola qua la funzione limit in SQL si può usare in due modi con un parametro oppure con due parametri dove ci sono quando passi un numero intero n con limit vengono restituite le prime n righe le prime n righe del risultato attenzione che lui ti dice quali sono le prime righe perché in realtà le SQL ti può restituire qualunque l'insieme di righe corretto ma in qualunque ordine e allora lui ti dice guarda attenzione che tu stai dicendo le prime 15 righe ma non è detto che siano le prime 15 per ordine di data potrebbe essere ordinate al rovescio oppure per ordine di qualche altro valore è il database che decide quindi quando limitiamo la soluzione dobbiamo sempre ricordarci un criterio di allenamento ad esempio data crescente allora a questo punto ho tutti i risultati li metto nell'ordine che mi serve e estraggo solamente i primi 15 in questo caso non usate count count nel senso di count SQL perché count ti direbbe quanti giorni ci sono cioè non ti serve per contarlo l'alternativa questo è un modo faccio in modo che la query mi restituisca solamente 15 risultati l'alternativa ma che però mi piace un po' meno è di dire ma sì ma chi se frega cioè dammeli tutti però ovviamente ordinati e poi in java nel mio while anziché fare un while normalmente avevo result set punto next e li andavo a estrarre farò aggiungerò qua un contatore e dopo che ho aggiunto l'elemento che se incremento il contatore forse era questa la soluzione che avevo in mente se count è già arrivato 15 esci dal ciclo dal ciclo while altrimenti continuo ad andare avanti a a estrarre getint eccetera eccetera di vari valori questo sicuramente funziona anche lui è un pochino meno leggibile perché sto facendo pasticcio qua col contatore sto facendo una query che mi dà magari 30 risultati e ne leggo solamente i primi 15 tanto vale dire al database dammi solamente i primi 15 quindi il risultato finale è lo stesso nel secondo caso sto facendo fare un pochino più di lavoro il database e mi faccio generare un insieme di risultati un result set sovrabbondante e poi ne prendo solamente alcuni non è questo grosso differenza di efficienza però se dico ricordiamoci che il database ha un mestiere da fare fare le query allora facciamolo lavorare facciamolo lavorare per quello che è capace di fare io sono dell'idea che se è un'operazione di filtraggio dati confronto ordinamento eccetera me la fa già il database è tutto lavoro che io risparmi lui sarà sicuramente più efficiente a fare quello rispetto a quanto posso essere io quindi dal punto di vista dell'efficienza non usiamo il database come una tabella stupida in cui devo semplicemente prendere i dati e poi tutte le elaborazioni me le faccio io in java io avrò delle elaborazioni che posso fare in java altre che posso fare nel database troverò la combinazione migliore però se c'è del lavoro che può già fare il database glielo faccio fare però in questo caso la differenza di efficienza è minima io giocherei molto di più sulla differenza di chiarezza cioè queste cose qui oppure un ciclo foro analogo eccetera eccetera sono complicano il programma sono quattro istruzioni per carità però sono quattro istruzioni che se posso toglierle è meglio e il programma è più chiaro è più diretto in un certo senso questo 15 WA questo 15 WA che cos'è da dove arriva questo contatore che cos'è ricordiamoci attenzione di risettarlo eccetera sono piccole cose che ci distraggono in un certo senso quindi è vero che dobbiamo contare l'efficienza quindi magari il database è più veloce a far questo oppure sono più veloce io non lo so saranno microsecondi di differenza ma di sicuro il mio tempo come programmatore di scrivere queste istruzioni e magari di correggere se ho fatto degli errori vale di più che non il tempo di esecuzione del programma per queste cose quindi cerchiamo di puntare sempre la soluzione più pulita e possibilmente più semplice quindi questo è anche per rispondere alla domanda di Matteo che mi dice ma lo posso fare in Java lo posso fare in SQL che cosa è meglio in questo caso questo mi sembra molto più facile semplice da leggere semplice da mantenere eccetera poi ovviamente se questo limite fosse variabile ovviamente anche qua possiamo mettere un punto interrogativo e passarlo come secondo parametro che sono un'istruzione SQL in più sono queste istruzioni che non piacciono tanto a chi insegna il corso di base di dati perché sono istruzioni totalmente non relazionali non si basano sul modello sull'algebra relazionale perché là si lavora con insiemi qui quando fai la limitazione invece non stai prendendo insieme ma stai pensando una sequenza di elementi però in campo pratico sono molto utili ecco l'altra cosa già che parliamo del limite normalmente si usa anche con due parametri in cui io posso estrarre 15 elementi a partire dal decimo a partire dal quindicesimo quindi se volessi prendere non i primi 15 ma i secondi 15 basterà che facessi limit 15,15 oppure viceversa 15 offset 15 mi dice prendine tot a partire da questo punto di partenza può servire eventualmente se uno deve ad esempio far vedere dei risultati per blocchi primo blocco secondo blocco terzo blocco e ogni volta mi estrago i dati che mi servono limitandoli a una certa fetta di dati vabbè già che ci eravamo ne abbiamo parlato allora Lorenzo mi chiede sempre relativamente alle date se possiamo usare il metodo data.getMonth seppur deprecato quindi ovviamente nella libreria jav.util.date vedete che questo oggetto qui ha un metodo getMonth però la documentazione vi dice che è deprecato questo ha un motivo è deprecato perché in alcuni casi particolari questi metodi non funzionano correttamente sono stati introdotti nella java 1.1 quindi una roba che probabilmente voi non avete ancora nato e oggi è di lì e hanno subito mostrato una serie di problemi questi metodi per cui è ovvio che lo possiamo usare hanno deprecato con il metodo dicendo non usatelo ma non hanno ancora avuto il coraggio di cancellarlo cioè una versione di java futura potrebbe scomparire ma non l'hanno ancora fatto scomparire perché ovviamente c'è moltissimo col ciclo quindi tecnicamente lo possiamo usare estrae effettivamente il mese bisogna solo fare attenzione se non ricordo male perché ti restituisci un numero tra 0 e 11 non tra 1 e 12 non sono sicurissimo però verificatelo quindi bisogna fare attenzione al più 1 meno 1 rispetto al numero del mese però come vi dicevo se aspettiamo la prossima lezione vi racconto una libreria che è sempre una libreria standard java anziché java.util java.time che contiene delle classi che non sono deprecate e che in realtà permettono di fare queste operazioni in modo molto migliore quindi per il momento finalizzato al laboratorio 6 estraete il mese o il giorno come intero oppure usate tranquillamente l'oggetto date sull'oggetto date è quasi impossibile fare delle elaborazioni però dei calcoli del tipo qual è il giorno prima qual è il giorno dopo sono abbastanza complessi mentre invece con le nuove classiche che studieremo invece diventa molto più semplice Federico mi dice questo mi dice guarda che io ho salvato la lista di tutto il mese ho detto ma già che c'ero mi chiedi marzo e estrago tutto in marzo tanto sono 30 e poi alla fine uso solamente i primi 15 è un errore? no certo che no nel senso che stai leggendo e memorizzando 30 elementi e poi l'importante è che usi solamente i primi 15 che ti servono probabilmente ti costava meno leggere tutti i 30 che non porti il problema di come fare a leggere solamente i primi 15 sono lì li leggo arriviamo da primi esercizi in cui leggevamo dizionari di 700.000 righe in frazioni di secondo e quindi non ci spaventiamo a leggere 30 elementi di sicuro e quindi non ci vedo nulla incontrare adesso se tu avessi letto tutti i mesi di tutte le città di tutti gli anni allora uno dice beh mi sembra un po' esagerato dover caricare su tutto per avere 15 elementi però leggere l'intero mese anziché la prima quindicina non mi crea nessun disturbo ecco da questo punto di vista hai fatto una scelta del tipo prendi una soluzione più semplice quindi non mi pongo questi problemi dove sono questi qua del limite che invece altri si sono posti ovviamente poi però quando nel model faccio la ricorsione andrò a fare attenzione a considerare solamente i primi 15 giorni quindi va benissimo all'esame ma nella vita anche non è che all'esame dovete farmi piacere facendo una certa cosa piuttosto che un'altra dal punto di vista la domanda che ci dobbiamo fare è dal punto di vista funzionale è corretto? cioè fa la cosa giusta? cercare il risultato giusto? sì allora questo è già a posto dal punto di vista prestazionale è un disastro? cioè è molto più lento molto più complicato molto più contorto rispetto alla soluzione a un'altra soluzione che potrebbe essere molto più efficiente? no allora se funzionalmente è corretto e prestazionalmente non è un disastro va bene poi c'è il terzo elemento cioè il codice è chiaro semplice non troppo contorto che è un elemento che serve diciamo così più a voi che non all'esame è propriamente detto nel senso che riuscirà anche a impostare soluzioni in modo che scrivendo codice che sia mantenibile è chiaro e comprensibile questo è più difficile anche più una questione di sensibilità anche di azzeccare di esperienza per azzeccare il modo giusto di farlo anche per questo ricade sempre la solita risposta del tipo la soluzione ma io ho fatto una soluzione qualcun'altro l'ha fatta molto diversa fa bene ciascuno di noi trova magari compromessi diversi perché magari uno ha visto prima la soluzione l'altro ha visto prima l'altra ma entrambe possono portare al risultato quindi è assolutamente normale avere approcci diversi di sicuro io non vado a considerare un errore una soluzione che funziona e dal punto di vista prestazionale è grosso modo equivalente non ha grosse penalità in più rispetto all'altra è quasi indistinguibile assolutamente ci impituiamo a verificare se un programma rispetta delle specifiche Enrico preoccupato degli errori del database ovviamente e questa in realtà è una preoccupazione legittima reale dobbiamo gestire particolari errori del database in questo caso purtroppo era capitato che alcuni giorni in alcuni giorni del calendario e proprio per sfiga nel giorno 1 di qualche mese mancasse la rilevazione dei dati meteo perché non c'erano nel database di partenza allora la risposta dovrebbe essere sì nel senso che io normalmente non posso mai dare per scontato che i dati che mi arrivano siano perfetti e quindi può esserci sempre qualche allora se lo vedo me ne accorgo cerco di gestirlo in qualche modo gestirlo può voler di tante cose nel senso che può voler dire che se ne manca il numero 1 mi manca il dato del primo del mese allora quel mese lì non lo elaboro fine tu mi hai chiesto i primi 15 giorni questo mese il dato non ce l'ho e quindi quando tu mi chiedi aprile io ti dico no non si può perché mi mancano i dati punto e questa è una risposta legittima nel senso che il testo d'esercizio non diceva cosa fare quando dovesse mancare qualche dato oppure un altro può dire ma allora manca l'uno io faccio prendo i giorni tra il 2 e il 16 sono sempre 15 giorni mi dice i primi 15 giorni nel mese io li interpreto come i primi 15 giorni che ci sono nel database oppure un altro potrebbe dire no ma io faccio solamente dal 2 al 14 non scusate dal 2 al 15 perché manca l'uno e i primi 15 giorni sono dall'1 al 15 non c'è l'uno quindi faccio dal 2 al 15 sono solamente 14 però è il meglio che riesco a fare quindi in questo caso stiamo gestendo inventandoci come gestire l'errore in modi diversi in questo caso tutti legittimi perché appunto le specifiche non diceva nel caso in cui si verifichi questo comportati in questo modo quindi sono tutte soluzioni possibili accettabili per gestire questo tipo di errore la soluzione che non sarebbe accettabile è non accorgersi di nulla e generare delle eccezioni ecco il programma non dovrebbe mai riuscire a uscire con delle eccezioni perché magari cerco di leggere il 15esimo elemento di un array in realtà ce ne erano solo 14 perché nel database non avete 14 allora questo dovremmo cercare di evitare con buon senso nel senso che se noi ci cominciassimo a pensare tutti i possibili errori che ci possono essere nei dati veramente non finiamo più cioè se aumentiamo il livello di paranoia da paranoia a livello verde giallo rosso arancio eccetera allora ci chiediamo magari se sono un giorno sì un giorno no non tutti i mesi o cose di questo genere allora dovremmo costruire una serie di controlli talmente ramificata che poi il programma diventa diciamo così troppo concentrato su quello quindi vediamo di gestire le anomalie più frequenti soprattutto diciamo così nel contesto di esame ma in generale quando uno approccia un nuovo esercizio spendiamo un po' di tempo a fare amicizia con il database di vedere proviamo a fare delle query vediamo a mano proviamo a guardare dei dati come sono eccetera in modo da poterli vedere e capire se ci sono dei buchi delle particolarità di cui dobbiamo tenere conto poi tenete conto all'esame noi cerchiamo di darvi già delle cose predigerite ma nel mondo reale c'è proprio un'operazione che viene fatta che prende il nome di data cleaning cioè pulizia dei dati in cui tu prendi dei dati grezzi e prima di applicarsi qualunque tipo di algoritmo li prendi li pulisci vedi se sono gli elementi mancanti se sono dei duplicati se ci sono dei valori palesemente errati eccetera eccetera e costruisci un database di lavoro su cui puoi fare girare gli algoritmi che è già stato ripulito da un passaggio precedente che è semi manuale e invece in parte assistito da dei tool eccetera però sì è possibile che possano mancare dei dati in modo spot all'interno di una base dati e quindi dobbiamo gestire questo caso cercando di ricondurre il comportamento dell'applicazione a una qualche gestione dell'errore anche se non appunto se non è specificato come gestire l'errore siete liberi voi di farlo di scegliere come gestirlo a un'errore a un'errore altre domande sì Paolo allora domanda di Paolo è ovviamente la classica domanda a cui è difficilissimo rispondere che mi dice guarda a me il programma a volte funziona a volte no che è questa dice ricerca nel primo momento non mi dà problemi ma se provo rifarla su un altro mese mi cresce l'esecuzione allora innanzitutto concentriamoci ovviamente senza avere il codice è impossibile rispondere rifarla rifarla vuol dire che io all'interno del stesso programma cambio mese e gli dico cerca oppure chiudo il programma lo riavvio e lo faccio partire su un altro mese sono due cose molto diverse perché se l'errore lo verifico quando faccio per la seconda volta una ricerca all'interno del nostro programma allora andrei a ricercare i problemi di dati che sono rimasti sporchi dell'esecuzione precedente potrebbe essere quindi quando riavvio la ricerca una seconda volta parto con delle strutture dati che non sono nella condizione pulita per poter iniziare la ricorsione questo potrebbe essere oppure magari per sbaglio ho cancellato qualche cosa ho cancellato la vista degli esami per sbaglio quindi andrei a cercare questi comportamenti quindi l'avvio la chiusura della ricorsione se lasciano le cose pulite mi crescia di nuovo non vuol dire niente nel senso che cosa vuol dire genera un'eccezione qual è questa eccezione in quale riga di programma perché il programma non muore non scompare semplicemente dal desktop quando se muore normalmente all'interno di JavaFX fa il possibile per riuscire a mantenere la finestra viva anche se i metodi che richiamiamo generano eccezioni ci logga l'eccezione nella console e mantiene la finestra viva oppure quindi questo potrebbe essere il programma si interrompe o genera un'eccezione allora andiamo a leggere quale è l'eccezione oppure il programma si blocca cioè io clicco su cerca e lui non mi dà la soluzione o perché è troppo lento o perché però magari un attimo prima ha funzionato adesso cambio mese non funziona più perché può darsi che anche lì probabilmente ci sia un loop in cui i dati sono sporchi per cui provo lì a buttare un'ipotesi tu hai letto 15 giorni poi cambi mese leggi altri 15 giorni però anziché sostituire i precedenti li aggiungi in fondo magari non è così ecco è un'idea così è possibile allora a questo punto quando lo passa la ricorsione la ricorsione poverina si vede 30 giorni 15 per un errorino banale di gestione dei dati allora in questo caso questa ricorsione ci metterà un miliardo di anni a riuscire a eseguire due alla trenta iterazioni no un miliardo è troppo però per capirci e allora il tuo programma ti sembra bloccato quando premi crash quando premi cerca quindi la prima cosa è cercare di capire l'errore è un lavoro da detective detective alla Sherlock Holmes prima fa un'ipotesi e poi cerca di verificare quell'ipotesi allora prima di tutto bisogna capire il primo passo del debugging è riuscire a riprodurre capire la riproducibilità dell'errore riproducibilità cioè quando si verifica io riesco a causare l'errore allora dimmi quella sequenza di passi che fai per generare l'errore avvio il programma scelgo aprile clicco cerca oppure no così no allora devo avviare il programma cerco marzo clicco cerca poi scelgo aprile e clicco cerca di nuovo ok allora quello cresce in modo sistematico e ma se con marzo e aprile oppure se fosse marzo e giugno invece funziona quindi c'è qualcosa di speciale in aprile cui magari mancava l'uno il problema di prima oppure funziona cioè va in palla sempre genera un errore sempre quando faccio la seconda ricerca quindi queste sono le prime cose che dobbiamo chiederci provare cercare di capire qual è il meccanismo di errore dopodiché dobbiamo capire qual è il punto esatto il punto esatto e la causa è il sintomo dell'errore la causa troppo facile se la dicesse il programma quindi il sintomo può essere diciamo così loop infinito quindi non ricorsione troppo profonda oppure una banalissima null pointer exception è una figata quando diciamo trovare un null pointer exception vuol dire che in quell'istruzione lì c'è un null fortunatissimo perché vuol dire che ci dice già in quale riga o qual è la variabile a cui dobbiamo fare attenzione allora dobbiamo chiederci perché quella variabile maledetta non ha il valore se fossero tutti così gli errori li risolveremo facilmente magari ce ne sono tanti di quelli ma quelli sono velocissimi da risolvere e ce ne sono altri invece che sono un pochino più difficili da comprendere allora una volta che abbiamo trovato queste due cose che sono di fatto analizzare sperimentare un po' col programma e fare delle ipotesi secondo me che ne so secondo me il programma a questo punto non ha il valore giusto di questa collection e quindi se non avesse il valore giusto è ovvio che poi dopo ha il comportamento errato e allora a quel punto ci mettiamo o un breakpoint in modalità debug oppure una printline per vedere il valore di quella variabile che ipotizziamo sia la causa del malfunzionamento eseguiamo il programma e ci dice subito possiamo subito osservare se quell'ipotesi che abbiamo fatto è corretta oppure no allora se l'ipotesi è corretta allora a questo punto trovo la soluzione cioè come correggere non ha un valore sbagliato ci sono 30 elementi anziché 15 oh maledizione quando l'ho creata non l'ho cancellato quello di prima allora vado su li cancello fine esolto l'ipotesi errata da un altro è frustrante perché vuol dire che devo cercare altrove ma cercare altrove vuol dire due cose uno che devi continuare a cercare quindi non ho ancora trovato la soluzione ma due che c'è una parte di programma che è giusta quindi vuol dire che tutta la parte di programma che calcola quella variabile non la devo guardare perché è giusta perché funziona quando io ho ipotizzato che questa variabile qui è sbagliata vedo che è giusta allora tutta la parte del programma che calcola quella variabile di conseguenza farà la cosa giusta e quindi l'errore lo devo cercare altrove e vado avanti così quindi per esclusione in qualche modo cercando sempre di verificare le mie ipotesi non fate mai l'errore di guardare il codice e dire secondo me l'errore è lì e cominciate a paccioccare e modificare quella riga di codici poi magari l'errore è tutto in un'altra parte io ho visto persone giocarsi interi esami facendo così che andavano a modificare aggiungere costruivano cose e poi alla fine semplicemente leggendo l'eccezione c'era un errore di sintassi nella query e sequelle mancavano spazio mancava una parente di tonda mancava un apice nell'interrogazione che era avvenuta venti istruzioni prima ma allora se che guardate si sono convinti si sono fissati che l'errore fosse altrove nella parte magari algoritmicamente più complicata e quindi si concentrano su quella parte che per loro era più difficile quando in realtà l'errore e il malfunzionamento era una parte relativamente facile del programma quindi non diamo nulla per scontato come tutti i detective non facciamoci ingannare da quella che è la nostra prima impressione di chi sia l'assassino ma dobbiamo proprio andarlo a cercare in modo sistematico poi ovviamente Paolo non ti liquido così nel senso che se poi hai bisogno magari mi mandi un link su telegram del repository su cui c'è il tuo progetto e lo possiamo guardare insieme però fate attenzione quando chiedete aiuto siate precisi anche voi perché altrimenti uno dice il programma non funziona e io che faccio posso darti una pacca sulla spalla e mi dispiace ma diventa difficile aiutarvi allora non solo con te ovviamente ne approfitto per ribadire la cosa allora invece c'è una domanda di Matteo che mi dice arriverà un momento in cui arriveremo a gestire l'interfaccia di utenti dinamiche cioè attraversiamo un input da certi dati e poi genera un'auto all'interfaccia che secondo i casi inseriti nella prima interfaccia ne crea un altro con elementi diversi e così via allora no nel corso non arriviamo a fare queste cose perché ci vogliamo concentrare di più sull'aspetto algoritmico che non sull'aspetto diciamo così della grafica ma non è molto difficile nel senso che noi possiamo come dici tu scrivere più file xml e richiamare l'un l'altro assolutamente sì nel senso che tu puoi a un certo punto creare nuove puoi creare nuove scene a partire da 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 diversi fxml ciascuna scena avrà il suo controller e quindi anziché crearle solamente nel main queste scene le crei dentro il controller crea un'altra scena a sua volta si porta dietro una classe controller che gestirà quei vari elementi e questa scena la puoi mettere all'interno di una nuova finestra quindi crei un nuovo stage oppure all'interno di una di un contenitore che ne so una un anchor pane ad esempio della finestra attuale perché quando tu crei leggi con fxml reader leggi un file fxml ti dà un nodo radice un root nodo noi questo nodo radice lo appiccichiamo direttamente alla scena però questo nodo radice potrebbe essere appiccicato come figlio di un qualunque altro contenitore quindi tu puoi avere un'interfaccia in cui c'è un contenitore vuoto e dentro questo ci vai a riempire dei pezzi fatti da fxml o così come nessuno ti vieta di creare e raggiungere nuovi nodi direttamente da codice java perché alla fine i nodi sono oggetti java quindi quando fai new new vuoi fare new hbox new vbox java.fx controls appunto nome del nodo e li puoi agganciare uno all'altro con con le proprietà se non sbaglio si chiama children che è una collection per cui dato da un elemento lo aggiungi alla lista dei figli quindi questo si può fare non è non è difficile è molto noioso ovviamente come tutto ciò che ha a che fare con la grafica perché tanti tanti piccoli passettini per mettere insieme le cose io quello che ho notato che per chi fa ha scelto di fare le tesine diciamo così la prova finale di programmazione quasi tutti hanno fatto un'interfaccia che richiamano più finestre più pannelli ma nessuno mi ha fatto delle domande su questo quindi direi che tutti hanno trovato abbastanza semplice col meccanismo dell'fxml e delle nuove finestre che vengono richiamate a vicenda e poi magari scriviamo anche in italiano aggiungere ok grazie a tutti Altre domande? Ok, va bene. Direi allora a questo punto abbiamo un po' esaurito forse gli argomenti di cui parlare, come sempre se avete altri dubbi, altre domande abbiamo Telegram apposta, quindi sentitevi liberi senza vergogna, nel senso che il problema di uno potrebbe essere lo stesso problema di qualcun altro, di cui non se ne è ancora accorto e è utile anche così come facevamo qua sulla chat, discutere più ampiamente sul gruppo, io una cosa la risolto in un modo, tu la risolto in un modo diverso, fa bene a tutti riuscire a confrontarsi, quindi oltre ovviamente a poter avere una risposta puntuale se fate delle domande, ma anche semplicemente condividere e discutere tra di voi, è un buon modo per aiutarsi a tenere il passo, perché io immagino che sarà difficile per voi come lo è per noi, riuscire a tenere il ritmo richiede una forza di volontà, un'organizzazione maggiore rispetto al solito, e quindi cerchiamo di usare tutti gli strumenti possibili per aiutarci ad andare avanti. Io in questo momento non vi nascondo che ho dei dubbi, nel senso che non ho idea se voi stiate riuscendo a seguire bene il corso, a fare esercizi, diciamo così, ad apprendere gli argomenti, in modo da arrivare ben preparati all'esame, cosa che normalmente vedendo le persone in aula, guardando quanto, diciamo, c'erano espressioni più o meno stranulate, oppure quanto più o meno esercizi in laboratorio ve la cavavate o no, riuscivamo un pochino ad avere anche il polso dell'evoluzione. In questo caso è molto più difficile, io spero che, diciamo così, c'è la facciata o perlomeno che l'informazione, il materiale che vi stiamo dando sia sufficiente, ma se no veramente fatevi sentire se ci sono delle difficoltà o se vi rendete conto che vi manca qualche passaggio, se vi manca qualche informazione, qualche tipo di supporto. Quello che probabilmente vi accorgerete è che la maggior parte, che questo è un po' un problema di questo corso, la maggior parte delle carenze arrivano da lontano. Nel senso che normalmente le persone che trovano difficoltà a seguire e poi a superare questo esame è perché a monte non sapevano cavare a programmare. Cioè uno che fallisce l'esame molto probabilmente avrebbe sbagliato anche l'esercizio 1 del laboratorio, tanto per capirci, quindi i problemi arrivano da monte. Però, come sempre, mi raccomando sempre a voi di cercare di reagire, chiedere, informare, condividere, lamentarvi liberamente, non c'è problema. Io poi per la settimana prossima, quando ci vedremo, spero di riuscire a darvi anche qualche informazione in più, via via, diciamo così, che diventano più precise sull'esame, che per il momento, come dicevo, è ancora abbastanza buio. Ci sarà poi il primo maggio, ma non ci impatta le lezioni, perché è di venerdì e noi siamo, diciamo così, formalmente nella prima metà della settimana, martedì e mercoledì, e quindi non avremo più altre interruzioni o intoppi fino alla fine del corso. Va bene. Non sono comparse altre domande, quindi vuol dire che voi siete o affamati o soddisfatti. A me van bene entrambe le cose. Vi saluto fino alla settimana prossima e ci sentiamo sul canale Telegram. Grazie a tutti.